Festa del papà in avvicinamento! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te Sì ragazzi, la festa del papà arriva a grandi passi Vogliamo non celebrare il nostro papà? Non sia mai su Arte per te, c'è sempre qualcosa speciale per il nostro papino E allora spostiamoci subito sul piano da lavoro e portate con voi una bottiglia di plastica Ed eccoci pronti per l'elencazione dei materiali per il primo lavoretto per la festa del papà Oggi facciamo una supercoppa reciclando una bottiglia E allora una bottiglia come questa Una ferrarelle, una lette, queste qua verdi Ci sono belle anche azzurre ma che abbiano questa forma molto a tulipano In questa parte sommitale Quindi una bottiglia in plastica di acqua Della colla vinilica Un pennello Pistola a caldo Un tagliabalza Del glitter oro o rosso o qualunque colore voi desideriate Un po' di scotch Anche lo scotch cart andrà benissimo Una matita E una penna che scriva sulla plastica ma non è essenziale Una squadretta orighello Una moneta di cioccolata Sì 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 questa ci serve Del nastro in raso o in cotone o qualunque cosa voi abbiate In pratica ci servirà poi per legare la medaglia alla coppa E ci occorreranno anche un paio di forbici Poi un contenitore in cui immettere il glitter Mentre faremo il nostro lavoretto Un puntino di bloc O attacca tutto O una colla aceto vinilica Va benissimo anche la vinavil Solo che fisserà di più per asciugare E un cartoncino un po' spesso Questo è la confezione dei Birelli della Nutella Che sto usando Sto reciclando ulteriormente Cominciamo subito Come prima cosa prendiamo la nostra moneta E tracciamo per Due o tre volte la sua circonferenza Io la traccio due o tre volte Perché il mio cartoncino è poco spesso Se avessi avuto un cartoncino spesso Quanto la moneta Avrei tagliato soltanto una volta Ma mi sarebbe venuto molto più difficile Da tagliare Quindi ritagliamo i tre dischetti Adesso questi tre dischetti Con un punto di attacca tutto Appiccichiamoli l'uno sull'altro Ok? E mettiamoli ad asciugare da parte Nel frattempo Prendiamo la nostra bottiglia E con un pennarello Tracciamo più o meno Una circonferenza All'apice della bombatura E facciamo la stessa cosa Anche nella coda Diciamo così Della nostra bottiglia Tracciamo tutto attorno Una volta avuta l'intera circonferenza Prendo il mio tagliabalza Lo apro Assicuro la lama Questo non lo può fare Voi prendetene uno con la sicura E piano piano Buco E taglio Lungo La linea che ho tracciato Se mi viene male Farlo tutto col tagliabalza Incido col tagliabalza E poi proseguo Con le forbici Io lo farò col tagliabalza Per sbrigarmi un attimo prima E poi casomai Con le forbici Rifilo i punti Dove non sono stata precisissima Come questo Fatto ciò Passo alla parte inferiore Stessa identica cosa Anche qui ripulisco i margini Qualora sia stata imprecisa In qualche punto Prendo dello scotch E lo fisso Guardate Io qui ho una parte zilinata E una parte liscia Prendo come punto di riferimento La linea di confine Tra la parte zilinata E la parte liscia Sì ombretta ce la puoi fare E attacco Lo scotch Tutto attorno alla bottiglia È stato facile Ora devo rimanere Sempre equidistante Dal bordo Scegliendo una distanza Io E sceglierò appunto Così più o meno Un centimetro Anche Su tutto il bordo Della bottiglia Arrivati a conunzione Taglio l'eccesso Perfetto Adesso Occorre Un contenitore Poi Occorre La vinavil E il glitter A portata di mano Come prima cosa Prendo la vinavil E la spalmo Così sul bordo E se salgo Sullo scotch Poco importa Perché tanto Quello mi servirà Semplicemente Come margine Oltre il quale Non sporcare Poi lo rimuoverò E rimarrà tutto asciutto Mino gli eccessi Lascio Uno strato omogeneo E prendo il glitter E piano piano Lo faccio cadere Sui miei margini E rimuovo E rimuovo L'eccesso Per adesso Sto lasciando Lo scotch Perché devo Lavorare In questa parte Nella parte inferiore Ma poi Rimuoverò tutto E vi farò vedere Come viene Bella pulita Ricopro Ricopro il tappo E la ghiera Che c'è sopra Il tappo Tutto di colla Sporcato Tutto di colla Vado a Poggiare Il glitter O casomai Anche lo verso Su tutto Ghiera E tappo Adesso Loro Dovranno Stare un attimino Da parte Ad asciugare E nel frattempo Noi Prendiamo La base Prendiamo Sempre il pennello E nella zona Che abbiamo lasciato Libera Dallo scotch Passiamo La colla Naturalmente Se le fate Postatele Sulla mia pagina Facebook A me fa un sacco Piacere vedere I vostri lavori Come prima Facciamo in modo Che alla colla Aderisca Tutto il glitter E lasciamo Asciugare E' giunto Il momento Di prendere La nostra moneta E aprirla Con molta Molta delicatezza Senza sformare Le facciate Questa La butto Ma che facevo La dovevo buttare Allora Col cederino Della matita Andiamo A eliminare Qualsiasi Disegno Ci sia Presso Sull'alluminio Dorato Andiamo A tracciare Il disegno Che vogliamo Piano piano Con la punta Della matita Io disegno Un tondo E al centro Scriverò Numero 1 Anzi Primo Primo Ok E poi Ricordatevi Quando scrivete Primo Di scriverlo Al contrario Perché Naturalmente Si legge Poi Dall'altra parte Quindi alla rovescia Ok Quello che si vedrà Nella mia moneta Sarà Questo Adesso Prendo I fogliettini Di cartoncino Che avevo appiccicato Prima E Rivesto Nuovamente La moneta Questa volta Non di cioccolata Ma di cartoncino Anche perché Deve durare Un bel po' Più di tempo No Speriamo tanto Che il nostro papà La conservi Questa coppa Quindi rifiliamo Se è piccola Ok E Richiudiamo Così Su se stessa La cartina Della moneta Ok La mia moneta È venuta Più o meno Così Bene Bene Potrebbe venire meglio Dire il vero Però Il papà Si accontenterà Quest'anno Benissimo Diamole una forma Tondeggiante Stirata Anche l'altra parte Appiccico Dietro Alla prima In modo da cerare Totalmente Il cartoncino Alla bene in meglio Perché tanto Poi questa parte Neanche si vedrà Perché verrà Adagiata Alla bottiglia E La mettiamo Un attimino Da parte Nel frattempo Prendiamo Quello che rimane Della bottiglia Togliamo L'etichetta E Ritagliamo Due strisce Di carta Lungo Tutta l'altezza Due strisce Di carta Due strisce Di plastica Naturalmente La larghezza Delle strisce È circa Un centimetro e mezzo Due Hanno più o meno Questa forma Vedete Ma anche se fossero dritte Le vostre Non ci fa assolutamente Niente Prendiamo I primi Quattro centimetri Circa E pieghiamo In avanti E casomai Aiutiamo A dare la piega Anche col taglio a balza Chiuso Pressando Così Quindi Una piega così E una piega Un'altra più piccola Verso l'interno Così E così Ok Quindi Una piccola In avanti Una piccola In avanti E questa Casomai Non ce l'aveste Fatta naturalmente La create voi Piegando All'indietro Deve venire Una cosa Così Prendo di nuovo Il glitter Perché Anche di queste Devo contornare I margini Col glitter E allora Di nuovo Colla Metterò Un perfilo Di colla Sulla parte Esterna Da entrambi i lati Naturalmente Prendo il glitter Prendo il glitter Lo verso qui Direttamente E faccio la seguente Immergo Da una parte E dall'altra Tolgo l'eccesso E faccio asciugare E faccio la stessa cosa Anche con quest'altra Nel frattempo Nel frattempo Il resto Della mia coppa Si dovrebbe Più o meno Essere asciugato E allora Comincio a rimuovere Lo scotch Lì dove lo avevo messo E piano piano Rimuovo lo scotch Togliamolo Sia dal bordo Della parte superiore Che da quello Della parte inferiore Bene 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 A questo punto Togliamo veramente L'eccesso di glitter Che poi comunque Agevoleremo anche Con una spennellata Con un pennello morbido E Pucciamo Un po' di colla a caldo In questo punto Al centro E uniamo Con la parte superiore Così E avremo La prima parte Della nostra coppa Ora Dobbiamo prendere Anche Quest'altra parte Che saranno I bracciettini E allora Metto Un po' di colla Qui Sulla piccola parte superiore E appiccico Lì dove c'è il glitter Poi Dall'altra parte Ho fatto questo Quindi l'ho incollata In prossimità Della linea glitterata Quindi mettiamo Della colla Attacca tutto Piuttosto che La pistola a caldo Mi sono resa conto Che la colla Attacca tutto E' meglio Per questo lavoretto Per due ordini di motivi In primo Perché state lavorando Con vostro figlio Quindi Meno cose pericolose Ci sono in giro Meglio è E in secondo ordine Perché l'incollaggio Essendo meno Violento Non sviluppo Il calore Che potrebbe piegare La bottiglia Malamente Se non siete esperti Nel controllarne L'incollaggio Attaccate anche La parte inferiore Spingete bene Vedete Con l'attacca tutto Ci sta veramente Un attimo E Scorrete Ok Fino a che non sarete Soddisfatti Dell'apertura Dei vostri braccietti Della coppa Adesso Occupiamoci Della medaglia Per la medaglia Prendiamo Un pezzo Di nastro rosso Saranno Un 50 cm E un 50 cm Di nastro verde Sempre con L'attacca tutto Al centro Del nastro rosso Che è quello più grande Sporcate Ogni 4 cm Così Con un punto Di colla L'importante E che non sporchiate I margini Ma sul centro Potrete lasciare La traccia Appunto Della colla Al centro Adagiamo Il nastro verde E facciamo In modo Che si poggi Su tutta La lunghezza E avremo Questo Facciamo La stessa cosa Col cordoncino Dorato Dovremo Posizionarlo Proprio al centro Ma per fare Questa cosa Non possiamo Sporcare Il verde Perché se no Si vedrebbe Troppo E allora In un tappino Poggiamo Un po' Di colla E Passiamola Velocemente Su tutto Così In modo Che si tiri Proprio Il filo Di colla Il cordoncino E rimanga Bello Adeso Quando lo Poggiamo Bene Facciamo Asciugare E dopo Lo riprendiamo A questo punto Prendete Il vostro Nastro E con Un punto Di colla Fissatelo Su quello Che sarà Il retro Della coppa Il punto Più alto Del retro Della coppa Voilà Prendete Prendete Appunto Il nastro Composto Da tre E Fissatelo Qui E fate Passare I lembi Attraverso Gli occhielli Dei bracci E sulla Sulla parte Anteriore In un punto Abbastanza Centrale Qui Vedete Metto un punto Di colla Su cui Faccio Arrivare Tacchete Il mio Nastro Il primo Dei due Nastri L'altro Invece Lo farò Incrociare Sopra Quello Messo In basso Così Poppetè Tolgo L'eccesso Di nastro E fisso Meglio Le codine Con due Puntini Di colle In modo Che loro Stiano ferme Prendo La mia Medaglia Numero Uno Sporco Dietro Con un po' Più Di colla E fisso All'incrocio Dei lacci Così E la mia Coppa Per il papà Numero Uno È pronta Ora Non mi rimane Che preparare Un biglietto Vi suggerisco Una pergamena Un bigliettino In finta Pergamena Vi linko Qui il video Dove potrete Vedere Come fare La finta Pergamena E potrete Scrivere Ho vinto Questa coppa Per essere arrivata Prima nella competizione Per il miglior papà Voglio comunque Condividerla con te E per me Rimarrai sempre Il mio campione E così Il vostro papà Si scioglierà In una pozza Di dolcezza E svenevolezza Nei vostri confronti E vi riempirà Di baci Trascorrete Una bellissima Festa del papà Insieme al vostro papà Non fategli mancare Mai le coccole Né le gratificazioni Non ricordategli Solo in questa circostanza Che è il numero uno Della vostra vita Auguri a tutti i papà E complimenti Per aver vinto La coppa Del miglior papà Io vi lascio Alle foto Del vostro trofeo E noi Ci rivediamo dopo Avete visto Che bella La nostra coppa Per la festa del papà Un vero e proprio trofeo Un trofeo per noi Che abbiamo Quel bravo papà Che cederemo E condivideremo Anzi Che condivideremo Con il nostro papà Dicendogli appunto Che essendo noi Vincitori di quel premio Condivideremo con lui Quella coppa Tutto scritto In un bigliettino Pergamena Che stia a celebrare Il nostro papino E che rimanga anche Come secondo pensiero Che penso custodirà Nel profondo del cuore Spero che questo video Facile facile In cui vi ho fatto vedere Come riciclare Una bottiglia di plastica Vi sia piaciuto Se è così Mi raccomando Lasciatemi un bel pollice in su Iscrivetevi Sulla pagina Facebook Per te Venite anche sul blog E naturalmente Vi aspetto insieme a Gabriele Anche su 2Q1K Canale in cui Potrete scoprire Tante cose buonissime Da preparare Il vostro papà Per celebrarlo Nel suo giorno Io ed Enzino Prepareremo questo Bellissimo cadeau Per il nostro papino Vero? Sì E saremo felici Di darglielo Il giorno del 19 marzo A tutti i papà Auguriamo Una splendida festa del papà E a tutti i figli Un buon papà a tutti Da ombretta Da Enzino E da Arte per te è tutto Arrivederci Ciao 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 Ciao